Cosa ha avuto George T. Rappas? Probabile infarto per l'attore ma loro improvviso per George T. Rappas, noto attore dei vicini film. L'attore, 59, si è eseguito male, di primo novembre, intorno alle ore, all'interno del centro dell'ingresso di Camilla al Fedeli, in provincia dell'Arna. Qui stava presentando la sua ultima domicola, il Grande Sato. Rappas era soccorso insieme ad alcuni colleghi e stava parlando del suo nuovo personaggio quando ha cominciato a sentirsi poveri. L'attore è stato prima soccorso da un'attore presenti in Sato. Poi, è stato necessario intervento di persone sanitarie che hanno avuto la presenza tra l'ospedale di Alessandro per le cure necessarie. Si parla di un'attore, il fatto e le sue situazioni sembrano gravi, ma in questo momento è stato un'attore di una vita ufficiale.